Il mio primo legame è per te? Ma questo emendamento è stato bocciato dall'Aggiunta Zingaretti perché pensava contestualmente a stanziare dei fondi 1,2 milioni di euro per l'accoglienza di migranti, ma questo non mi fa affermare, nella prossima seduta di bilancio farò di tutto per riproporre il tema sicurezza perché secondo me è un punto fondamentale per essere un paese civile.